Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, come invece sei tornato e preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e l'amore, da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. All'inizio di quest'ultimo giorno, di questa celebrazione, diamo il benvenuto a Don Vincenzo Greco, Vicario Generale. Ecco, io avevo invitato il Vescovo, non per sottovalutare il Vicario, ma il Vescovo mi ha comunicato che è fuori sede, allora l'ho proposta a Don Vincenzo, che mi ha immediatamente detto di sì. Grazie di questa tua presenza in mezzo a noi. Noi già veniamo da quattro giorni intensi che abbiamo vissuto di preghiera. Ieri sera è stata una serata bellissima, perché abbiamo fatto la processione eucaristica in tutti i reparti dell'ospedale, riprendendo una prima processione eucaristica, che fu fatta il 21 giugno del 1978, lo attesta una lapide all'ingresso del vecchio ospedale, ecco, del vecchio, quando c'era il vecchio ospedale, ecco, che appena aperto l'ospedale nel 1968, il cappellano di allora, ecco, affidò questo ospedale a Gesù Eucaristia. E noi l'abbiamo voluto, ecco, riprendere proprio col nuovo ospedale per affidare tutti, medici, infermieri, operatori sanitari, ecco, operatori amministrativi, tutti, affidare tutti veramente a Gesù Eucaristia. È lui la nostra forza, è lui, è in lui, è che attraverso di lui vediamo in ogni ammalato il suo volto. E allora, grazie di questa tua presenza, concluderemo adesso con la celebrazione eucaristica animata dal nostro coro di infermieri e del personale dell'ospedale e poi faremo la processione, ecco, con il simulacro che abbiamo comprato con le offerte dei fedeli. Ecco, un ringraziamento particolare a tutte le autorità, civili e militari, ecco, che hanno voluto omaggiarci di questa loro presenza, a cominciare dal signor Sindaco, l'onorevole Cristaldi, che ha accolto, devo dire, ecco, con grande entusiasmo la mia richiesta di patrocinare la festa. E allora, grazie signor Sindaco, ecco, io penso che qui c'è tanta città di Mazzara stasera e allora questa presenza è un segno di speranza, ecco. Mazzara ha bisogno di Dio, ha bisogno di fede, ha bisogno di Gesù, ha bisogno di spiritualità e la nostra cappella, io credo che sia diventata veramente un bel centro di spiritualità. Ecco, grazie a tutte le altre autorità che sono convenute, ecco, grazie ai Cavaliere di Malta che sono convenuti anche stasera. Li ringrazio insieme a tutti i benefattori. Ecco, tutto quello che vedi Don Vincenzo qui è dono dei fedeli. Ecco, continuamente, continuamente la gente, ecco, vede e ha il piacere di lasciare un segno e per questo, ecco, stiamo facendo tante belle cose. Poi, ecco, non per ultimo, perché è il padrone di casa, non per ultimo, ecco, do il benvenuto al dottor Giuseppe Morana che è il nuovo direttore sanitario del nostro ospedale. Ecco, benvenuto. Siamo tutti, ecco, non manca nessuno. E poi ci sono i nostri fedeli che sono dall'altro lato, ecco, al CUP, abbiamo invaso il CUP. Ecco, benvenuti a tutti. Adesso preghiamo e ci affidiamo al Signore e sperimenteremo non solo la Sua misericordia ma anche la Sua gioia. Ed è proprio al Signore misericordioso che oggi rivolgiamo con particolarissima fiducia il nostro sguardo, lo sguardo soprattutto del nostro cuore per ottenerne il perdono. Coloro che riconosciamo i nostri peccati, i nostri limiti e la nostra miseria al Signore doni la pace. Confesso a Dio Onipotente E a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e commissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e voi, fratelli, di preparare per me il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Gloria a Dio nell'alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rieghiamo grazie per la tua gloria emmenza. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onipotente, Signore Figlio Onigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra dei Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo è l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amo. Amo. Dagli Atti degli Apostoli La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava a sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. Dica Israele, il suo amore per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore per sempre. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto pradezza. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore, perché è buono il suo amore per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Carissime, chiunque crede in Cristo Gesù è stato generato da Dio e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e sangue, ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché mi avete veduto, Tommaso? Tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Dal Vangelo secondo Giovanni Glorie a te, suo Signore La sera di quel giorno, il primo della settimana Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli Per timore dei giudei Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro Pace a voi Detto questo mostrò loro le mani e il fianco E i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù disse loro di nuovo Pace a voi Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi Detto questo soffiò e disse loro Ricevete lo Spirito Santo A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù Gli dicevano gli altri discepoli Abbiamo visto il Signore Ma egli disse loro Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi E non metto il mio dito nel segno dei chiodi E non metto la mia mano nel suo fianco Io non credo Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa E c'era con loro anche Tommaso Venne Gesù a porte chiuse Stette in mezzo e disse Pace a voi Poi disse a Tommaso Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco E non essere incredulo ma credente Gli rispose Tommaso Mio Signore e mio Dio Gesù gli disse Perché mi hai veduto tu hai creduto Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto Gesù in presenza dei suoi discepoli Fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro Ma questi sono stati scritti perché crediate Che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio E perché credendo abbiate la vita nel suo nome Parola del Signore Grazie a te Alleluia Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato Si svolge in due scene diverse Una prima scena nella domenica di Pasqua E la seconda scena nella domenica come oggi Otto giorni dopo Io credo che il primo grande insegnamento di questo Vangelo oggi sia molto semplice Per noi cristiani Per noi cristiani la domenica è fondamentale Perché chi vuole incontrare Gesù misericordioso Gesù risorto Chi vuole incontrare colui che ci salva Deve andare a messa e deve andare a messa la domenica Lo dico con i termini o con il linguaggio che usiamo noi oggi Ma avete visto Gesù appare il primo giorno della settimana Noi potremmo dire oggi lunedì Ma allora era il giorno dopo il sabato Nella settimana ebraica E poi riappare agli apostoli Nello stesso contesto A porte chiuse Esattamente più o meno come siamo noi Ne vorremmo di porte aperte con questo caldo Otto giorni dopo Il seguente giorno dopo il sabato A porte chiuse Che significa a porte chiuse? Perché Giovanni tutte e due le volte dice Lui che è la fine teologo Sottolinea i particolari che gli sembrano importanti Perché Gesù non viene mai dal di fuori Non entra Ma viene dal di dentro Dai nostri cuori La sua presenza La presenza del risorto È una presenza nello spirito E dunque là dove è l'assemblea Il corpo di Cristo Che siamo noi Che ci riuniamo Che il Signore si rende presente E nella domenica avvengono Per coloro che vi partecipiamo con la fede Ritrovata poi dall'apostolo Tommaso Avvengono delle cose meravigliose Pace a voi Lo ripete in questo Vangelo Tre o quattro volte Eppure Gesù non aveva mai salutato Nei giorni Diciamo Del suo apostolato terreno Mai nessuno Così come fanno i francescani Pace a voi Perché è qui No? Di fronte al risorto Alla carne piagata Di colui che è il risorto Perché mostra anche le sue ferite Nelle mani e i piedi nel costato A Tommaso È lì che riceviamo la pace È lì che riceviamo Ecco la gioia I discepoli furono pieni di gioia Pieni di gioia Gioirono A questi doni Noi cristiani Dove li possiamo trovare? Dove possiamo abbeverarci Allo spirito che il Signore Fa fluire Ecco dalla sua carne ferita Se non da questa mensa In fondo qua Giovanni sta riscrivendo In nuce Quella che è la nostra messa Gesù mostra loro Le mani e i piedi No? Ma che Forse durante la messa Gesù non mostra il suo corpo Spezzato Non mostra il suo sangue No? In questo calice Cioè mostra il suo amore Che è visibile soltanto In colui che È stato crucifisso Ed è risorto Ecco perché In questa festa Cioè la seconda domenica di Pasqua Come allora A Santa Faustina Che ebbe da Gesù Ecco il compito di Ridipingere Ecco in realtà è un dipinto L'originale Di ridipingere Il volto Anzi la figura di Gesù misericordioso Ha chiesto anche che fosse questa La giornata a lui dedicata Cioè la divina misericordia Perché in realtà Il Gesù è scritto da questa immagine È esattamente colui Che si presenta nel cenacolo No? Le mani È il risorto Ma nel suo tempo È anche colui Che è il crocifisso Ovvero Colui che mostra La ferita La ferita La piaga Nel suo costato E nelle mani Nei piedi I buchi Ecco dei chiodi Di cui si parla Abbondantemente in questo E non c'è contraddizione Anzi Gesù può elargire questi doni Lo spirito La pace La gioia E soprattutto Il perdono dei peccati Cioè la sua misericordia Proprio perché L'agnello è molato Proprio perché È il crocifisso A Santa Faustina Gesù disse Di far uscire O dipingere Questi due raggi Uno Rosso Appunto il simbolo Del sangue Del crocifisso No? E l'altro Pallido Così disse Gesù A Santa Faustina Che in realtà è l'acqua Per questo poi È diventato un po' più azzurrino Ma All'inizio doveva essere pallido Come l'acqua Che è bianca Pallido Ed è l'acqua No? Vi ricordate I Giovanni Lo stesso evangelista Ci ricorda Che da Gesù Dal costato del Signore Crocifisso Uscirono Acqua E sangue E in realtà Sono il simbolo Dei sacramenti Il battesimo E l'eucaristia Il sangue Non è sacrificio Quindi tutti Quei sacramenti Da cui noi Attingiamo Il perdono E la misericordia Ecco allora Il senso Di questa festa Non può che essere Anzitutto Godere Della misericordia Di Dio Cioè guardare Questa immagine Ovvero l'eucaristia Ovvero guardare Dentro di voi Nella vostra memoria Quello che il Signore Ha fatto Nella nostra vita E gioire Nella sua presenza Nella nostra esistenza E poi E poi E poi Io credo che sia Anche la festa Della fiducia Ovvero Della fede Vediamo Tommaso Che si getta Tra le braccia Di Gesù Signore mio Dio mio Tu sei Veramente Il mio Gesù Credo in te E quella festa Della fiducia Cioè di fronte A una promessa Fatta da Dio Del perdono Dei peccati Della tenerezza Della misericordia Quale non deve essere Il nostro atteggiamento Se non quello Appunto Di fidarci Affidarci Io credo che La festa di oggi Giovanni Paolo II San Giovanni Paolo II Che insieme a Santa Faustina Si ritrovano In questa cappella L'ha voluta istituire In maniera solenne In tutta la Chiesa E questa È la prima volta Credo che Nella nostra Dioce Si celebi In maniera così solenne Ma proprio per questo Perché noi possiamo Guardando l'amore di Dio Procifisso Possiamo ugualmente Crescere Crescere in che cosa? Nella fiducia E nella speranza Che sono virtù Che troppo spesso Ci mancano Nella nostra vita cristiana E quindi di conseguenza Nella nostra vita familiare Nella nostra vita civile Ci manca la speranza Ci manca la fiducia Di coloro che si sentono Amati e salvati Perché in ospedale? La cappella è stata dedicata All'ospedale Anche perché Nell'ospedale Alla divina misericordia Anche perché La misericordia di Dio Ci chiama A essere ugualmente Misericordiosi Avete visto Come nel Vangelo Gesù Dopo aver mostrato Le sue piaghe Cosa dice? Come il Padre Ha mandato me Così anch'io mando voi Ed è esattamente Quello che succede Dopo ogni messa Nella missio finale No? Ite missa est Cioè Ora è la missione Non solo la missa è finita Ma ora inizia La missione nel mondo Cioè la nostra testimonianza Di chi? Di coloro che dobbiamo essere Misericordiosi Secondo le parole di Gesù Come misericordioso Il Padre nostro E non soltanto Con quest'opera Di misericordia Che qui sta crescendo Grazie anche al VOM Agli volontari Che appunto In questo ospedale Stanno facendo tanto bene Ma Che è appunto La visita degli ammalati Ma con tutte le altre Opere di misericordia Con quella carità Ecco che ogni cristiano Ognuno di noi Carità di ogni tipo Perché in ogni gesto E in ogni ambito Della nostra vita Dobbiamo amare E dobbiamo quindi fare Le scelte Che parlano di amore E di giustizia Ecco e questo è un po' Il senso Io credo Di questa festa Non dovremmo Fermarci soltanto Ai sentimenti O a quelle che possono essere Le emozioni di chi Guardando alla misericordia Di Dio Si sente saziato Della sua presenza Sarebbe un puro devozionismo Che Dio Non accoglie assolutamente Se immediatamente Questo non si traduce In come diceva Ecco Anche Santa Faustina In La carità attiva C'è una carità Che diventa Visibile Perché è qualcosa Ecco che crea Nel mondo La novità Di una civiltà Dell'amore A me e a voi Auguro che la partecipazione A questa celebrazione Alla processione Per quanti poi Si formeranno Possa produrre in noi Ecco questo miracolo Miracolo bello Di un uomo Di una donna Che da ora avanti Scelgono Di volersi fidare Di Dio Scennendo Dal nostro piedistallo Che a volte Voglio dire anche quello mio Che ci ha posti A volte nelle condizioni Di pensare O di presumere Che non c'è bisogno Per esempio Di riconoscere I nostri peccati Non c'è bisogno Di riconoscere I nostri limiti Le nostre debolezze Ma questo invece È essenziale Per avere fiducia Esattamente come un bimbo Perché si affida E si fida dei genitori Perché conosce i suoi limiti Perché senza di loro Ha paura Perché sa Di non potercela fare Sa di non avere I mezzi E gli strumenti Per raggiungere Tutto quello Che vorrebbe Ecco noi oggi Siamo chiamati A questo slancio Rinnovato Di fiducia E di speranza Ecco in questo giorno In cui Sulla scorta di Tommaso Vogliamo anche noi Rinnovare questa fede Che è fiducia Nella misericordia di Dio Rinnoviamo Le nostre promesse Battesimali Così come Abbiamo fatto O qualcuno Per conto nostro Ovviamente Il giorno Del nostro battesimo Credete in Dio Padre Onnipotente Creatore del cielo Dio della terra Credo Credete in Gesù Cristo Suo unico figlio Nostro Signore Che nacque da Maria Vergine Morì e fu sepolto E risuscitato dai morti E siede La destra del Padre Credo Credete nello Spirito Santo La Santa Chiesa Cattolica La comunione dei Santi La remissione dei peccati La risurrezione della carne E la vita eterna Credo Dio Onnipotente Padre del nostro Signore Gesù Cristo Che ci ha liberato dal peccato E ci ha fatto rinascere Dall'acqua E dallo Spirito Santo Ci custodisca con la sua grazia In Cristo Gesù Nostro Signore Per la vita eterna Fratelli e sorelle In questo giorno santissimo In cui la potenza Dello Spirito Ci crea come uomini nuovi A immagine del Signore risorto E fa di tutti noi Il suo popolo santo Innalziamo la nostra preghiera unanime Perché la gioia della Pasqua Si estenda nel mondo intero Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre Per tutto il popolo cristiano Convocato nel giorno del Signore Pasqua della settimana Perché manifesti la presenza Di Gesù risorto Con la gioia di vivere In uno stesso luogo E con lo stesso cuore Preghiamo Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre Per la nostra comunità Perché cresce insieme A neobattezzati Come vera famiglia di Dio Perché assidua All'ascolto della parola Perseverante nella preghiera Testimoniante nella carità fraterna Preghiamo Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre Per tutti coloro Che vivono L'esperienza del dolore Perché non si lasciano Vincere dallo sconforto Ma per la forza Della fede E la solidarietà Dei fratelli Sentano che il Signore È vicino A ciascuno di loro Preghiamo Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre Perché il cristiano Che dubita Per l'incredulo Che dovrebbe credere E per tutti coloro Che cercano con amore La verità Perché illuminati Dalla grazia pasquale Riconoscono Che non c'è altro nome Al di fuori di Cristo In cui essere salvi Preghiamo Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre E vogliamo ricordare In maniera particolare Vita e Battista E Giuseppe Abate Nell'anniversario Perché il Signore Doni a tutti La gioia della vita eterna Preghiamo Santifica nella verità La tua Chiesa o Padre O Padre O Padre Che nella resurrezione Del tuo Figlio Dissolvi ogni paura E rendi possibile Ciò che il nostro cuore Non osa sperare Concedi a ogni uomo Che si dice cristiano Di rinnovarsi Nel pensiero E nelle opere Con la fede Di chi nel battesimo Si sente risolto Per Cristo Nostro Signore Amore Benenetto Signore Dalla tua contabia Dalla tua contabia Dice Il punto della vita e dell'amore dell'uomo Noi lo presentiamo a te Anche diventi per noi bevando la salvezza E benvenuti a te, Signore Come dipenditi, Signore, accoglici Ti sei ridito il nostro sacrificio Che oggi si compie L'ansia a te Lavami, Signore, da mia colpa E purificami da ogni peccato Pregate, fratelli e sorelle Perché questa nostra famiglia Radunata nel nome del Signore Gesù Possa offrire il sacrificio gradito A Dio, Padre e Unipotente Il Signore diceva da domani Questo sacrificio Allora e gloria del suo nome Per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa Accoglie con bontà, Signore L'offerta del tuo popolo Tu che ci hai chiamati alla fede E rigenerati nel battesimo Guidaci alla felicità eterna Per Cristo, nostro Signore Amén Il Signore sia con voi E con il tuo spirito In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore Rendiamo grazie al Signore nostro Dio E cosa buona e giusta E veramente cosa buona e giusta Nostro dovere è fonte di salvezza Proclamare sempre la tua gloria E soprattutto esaltarti in questo giorno Nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato E' Lui il vero Agnello Che ha tolto i peccati del mondo E' Lui che morendo ha distrutto la morte Risorgendo, ha ridato a noi la vita Per questo mistero Nella pienezza della gioia pasquale L'umanità esulta su tutta la terra E con l'Assemblea degli Angeli dei Santi Canta l'inno della tua nome Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo Dio dell'universo Dio dell'universo Veramente Santo a te La lode da ogni creatura Per mezzo di Gesù Cristo Tuo figlio e nostro Signore Nella potenza dello Spirito Santo Fai vivere E santifichi l'universo E continui a radunare intorno a te Un popolo che da un confine All'altro della terra Offra al tuo nome Il sacrificio perfetto Ora ti preghiamo umilmente Manda il tuo Spirito a santificare I doni che ti offriamo Perché diventino il corpo e il sangue Di Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore Che ci ha comandato di celebrare questi misteri Nella notte in cui fu tradito Egli prese il pane Chi rese grazie lo spezzò Gli era sui discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti Questo è il mio corpo Offerto in sacrificio per voi Dopo la cena Allo stesso modo prese il calice E ti rese grazie Lo diede ai suoi discepoli Disse Prendete e bevetene tutti Questo è il calice Del mio sangue Per la nuova ed eterna alleanza Versato per voi e per tutti In remissione dei peccati Fate questo in memoria di me Mistero della fede Annunciando la tua morte Signore Propagnando la tua riscrizione E l'attesa della tua venuta Celebrando il memoriale Del tuo figlio morto per la nostra salvezza Gloriosamente risorto e asceso al cielo Nell'attesa della sua venuta Ti offriamo padre In rendimento di grazie Questo sacrificio vivo e santo Guarda con amore Riconosci nell'offerta della tua chiesa La vittima immolata per la nostra redenzione E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio Dona la pienezza dello spirito santo Perché diventiamo in Cristo Un solo corpo e un solo spirito Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito Perché possiamo ottenere il regno promesso Insieme con i tuoi eletti Con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio Con San Giuseppe suo sposo Con i tuoi santi apostoli I gloriosi martiri San Tommaso Santa Faustina Kowalska San Giovanni Paolo II E tutti i santi Nostri intercessori presso di te Per questo sacrificio della riconciliazione Dona padre, pace e salvezza al mondo intero Conferma nella fede e nell'amore La tua chiesa peregrina sulla terra Il tuo servo e nostro Papa Francesco Nostro Vescovo Domenico Il Collegio Episcopale Tutto il clero e il popolo che tu hai vedendo Ascolta, oh padre La preghiera di questa famiglia Che hai convocato la tua presenza Nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore Nel suo vero corpo Ricongiungi a te padre misericordioso Tutti i tuoi figli ovunque dispersi Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti E tutti i giusti che in pace con te Hanno lasciato questo mondo Concedi anche a noi di ritrovarci insieme A godere per sempre della tua gloria In Cristo nostro Signore Per mezzo del quale tuo Dio Doni al mondo ogni bene Per Cristo, con Cristo ed in Cristo A te Dio Padre Onipotente Nell'unità dello Spirito Santo Ogni onore e gloria Per tutti i secoli dei secoli Amore Il Signore ci ha donato il suo spirito Con la fiducia di coloro che sanno Di essere oggetto del suo amore E della sua misericordia Diciamo insieme Padre nostro Che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo e così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri temiti Come noi liberiamo i nostri temitori E non ci intutre in tentazione Ma liberaci dal male Liberaci o Signore da tutti i mali Concedi la pace ai nostri giorni E con l'aiuto della tua misericordia Vivremo sempre Liberi dal peccato E sicuri da ogni turbamento Nell'attesa che si compia La beata speranza E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Tu è il tuo regno Tu hai la potenza E la gloria dei secoli Signore Gesù Cristo Che hai detto ai tuoi apostoli Vi lascio la pace Vi do la mia pace Non guardare i nostri peccati Ma la fede della tua Chiesa E donale unità e pace Secondo la tua volontà Tu che viveregni Nei secoli dei secoli Amén La pace del Signore E sia sempre con voi E con il tuo spirito Nello spirito del Cristo risorto Datevi un segno di pace La pace seconda La pace seconda La pace seconda Agnello di Dio Che toglie i peccati del mondo Ambi pietà di noi Agnello di Dio Che toglie i peccati del mondo Ambi pietà di noi Agnello di Dio Che toglie i peccati del mondo Dona a noi la pace Beati e invitati A noi la pace A noi la pace Che toglie i peccati del mondo Che toglie i peccati del mondo Dove la carità di Dio Dove la carità E' vera e sincera Che toglie i peccati del mondo 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 Dove la carità che l'ignia comprende e non si malta, tutto te e l'amo e tutto spera, la mea carità. Anche tu qui insieme noi ci raduniamo, vigiliamo che non siamo divisi i nostri cuori, non più lente, non più distinie, contese e maligne, ma sia sempre in mezzo a noi, Cristo Signore. Dove la carità è vera e sincera, tange Dio, dove la carità perdona e tutto sopporta, Dove la carità che l'ignia comprende e non si malta, tutto te e l'amo e tutto spera, la mea carità. Dove la carità è vera e non si malta, la mea carità è vera e non si malta, Dove la carità è vera e non si malta, la mea carità è vera e non si malta, la mea carità è vera e non si malta, Dove la carità è vera e non si malta, tutto te e l'amo e tutto spera, la mea carità. Grazie. 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 Preghiamo. Dio Onipotente. che la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, continui a operare nella nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amén. Ciò che il Signore ci chiede oggi allora è sintetizzato in quelle parole che gli stesso chiese a Sor Fossina, a Santa Fossina, di scrivere sotto questo quadro che avrebbe dipinto, base alla visione che aveva avuto. Io confido in te. E non è tanto allora la festa, diremmo, della misericordia di Dio quanto, anche per lei lo diceva spesso, quanto della nostra fiducia ecco in questa misericordia. perché la misericordia di Dio, se non è accolto da chi apre il cuore con fiducia, non serve a nulla, non servirebbe neanche a noi. Allora è la festa della sua misericordia e della nostra fiducia. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo Amén. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace Entriamo, grazie a Dio Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace Grazie a Dio Ringrazio, oh mio Signore Per le cose che sono nel mondo È la vita che tu ci hai donato È l'amore che tu nutri per me Alleluia, oh mio Signore Alleluia, oh mio Signore Alleluia, oh mio Signore Oh mio Signore Alleluia, oh mio Signore Alleluia, oh Dio Signore, alleluia, oh Dio del Cielo, alleluia, oh Dio Signore, alleluia, oh Dio del Cielo, alleluia, oh Dio Signore, alleluia, oh Dio del Cielo. Misericordioso, Dio, a questo Cielo veramente propaga la misericordia, la misericordia di Gesù, sarà portato per tutta la processione a spalla, sarà portato a spalla per tutta la processione, dai nostri portatori, grazie, grazie, grazie. 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 di Dio. In eterno, di fronte a tutto il popolo, la tua misericordia canterò tutti insieme. Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Gesù, io amo te. Gesù, confido in te. Due sorgenti sono scaturite come raggi dal cuore di Gesù, non per gli angeli e per gli angeli, ma venite catoli, Gesù, Gesù, io spero in te. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. la vera carità, aiuti di tutto l'amore di Cristo, esultiamo e allegriamoci di Lui. E amiamo, ed amiamo il Dio vivente, ed amiamoci a noi con cuore sincero, dove la carità etrea è sincera. E amiamo, ed amiamo, ed amiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del nostro amore. Padre o Maria, piena di grazia, il Signore è contento, dove la carità perdona e tutto sopporta, la vera carità. Anche tu qui insieme noi ci raduniamo, qui ci diamo che non siamo divisi i nostri cuori, non più neri, non più li. Tu, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in me. Gesù, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te, due sorgenti sono scaturite, come raggi dal cuore di Gesù. Non per gli angeli né per gli arcangeli, ma per i peccatori lei donò. Grazie della misericordia, il tuo figlio divino elargirà, tutti insieme con fede. Gesù, io credo in te, Gesù, io credo in te, Gesù, io credo in te. Io pensavo, non è stata una bella serata a livello che c'era il vento, però mi è venuto in mente il brano evangelico quando, ecco, la tempesta, sono tutti sulla barca, Gesù è dall'altro lato e Gesù dorme. E allora la barca, hanno paura gli apostoli perché la barca affonda e gridano a Gesù, Gesù salvaci. E Gesù si sveglia e dice, calmati, di che cosa ti preoccupi? Quando ci sono le tempeste nella nostra vita, altro che tempesta di vento, per carità, se c'era una serata bella, ma altro che tempeste. Ecco, anche noi, Gesù stasera ha visto la nostra fede e ci ha detto, non ti preoccupare, ci sono io, non ti preoccupare. Allora, viva Gesù misericordioso! Adesso do la parola a Don Vincenzo Greco, il Vicario Generale, che concluderà questa processione e farà l'atto di affidamento della nostra città e di tutti gli ammalati a Gesù misericordioso. Ma soltanto per un saluto, perché già la processione è stata ricca di preghiere, poi la celebrazione eucaristica ancora di più. Mi pare che la missione o comunque il ruolo che stasera questa processione ha avuto è organizzata dalla cappellania dell'ospedale e in sintonia con quello che fu e con l'intenzione del sommo magistero di Giovanni Paolo II, quella di divulgare e far conoscere al mondo intero la devozione alla divina misericordia. E in realtà, ecco, per le strade della nostra città, questa immagine ha voluto ricordare a tutti noi l'amore, ecco, la misericordia, la passione di Cristo risorto, che perdona i nostri peccati e che, ecco, ci salva gratuitamente, gratis. Ha bisogno soltanto della nostra disponibilità, dicevamo poc'anzi, della nostra fiducia. Gesù, io confido in te. Non ha bisogno di persone brave, né sante, perché non lo siamo nessuno, ma davvero nessuno. Ha bisogno soltanto di questa confidenza. La misericordia di Dio ci raggiunge dovunque, dove c'è questa apertura. Perché questa tenerezza va insieme anche, non possiamo dimenticarlo, con quella sua determinazione nel dire quando sarà il giorno, io non ti conosco. Questa parola mi ha sempre fatto paura. Perché lo rivolge proprio a coloro, come per esempio noi sacerdoti, ma tutti noi fedeli, che rispondiamo a lui, ma signore, come io ogni giorno ero con te, ogni giorno, io non ti conosco. E perché? È più chiaro poi, più avanti, quando dice, perché quando ero ignudo non mi hai vestito, perché quando ero malato non mi hai visitato, perché quando ero eccoforestiero non mi hai accolto. Perché in realtà Gesù, il Dio misericordioso, è presente negli ultimi, nei deboli, negli infermi, nei poveri e negli stranieri. Questo allora la nostra città oggi può desiderare, essere misericordiosa come misericordioso colui che ci ha creato. Atto di affidamento alla Divina Misericordia, scritto da San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel tuo figlio Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, noi ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male e fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vive le lì che è il Dio Onipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso, prima dell'estrazione delle polizze, è il momento del ringraziamento. Ecco, ringrazio ancora una volta l'Onorevole Cristaldi, il nostro sindaco, per la sua presenza e anche alla processione. Tutti abbiamo sfidato il vento, ma io penso che andiamo via più arricchiti veramente di amore. Ecco, il vento non deve farci paura. Ecco, voi volevo ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale, ecco, il Comandante dei Vigili Urbani, ecco, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, il Masci, i Cavalieri di Malta, ma soprattutto vi chiedo un grandissimo applauso per i portatori. Ecco, che sono stati, mi hanno, mi hanno assecondato sin dal primo momento perché ho detto, ho detto, sta processione si fa a spalle. Con le carrelline, fare processione con le carrelline è facile. Invece la fatica, ma è una fatica veramente gioiosa. Grazie a tutti voi, ad uno ad uno. Grazie. Ecco, poi, un ringraziamento ai miei strettissimi collaboratori che hanno creduto in questa festa della Divina Misericordia, la prima a Mazzara, la prima nel nostro ospedale. Tutti volontari, ecco, sono quasi, sono più di 80 volontari che mi collaborano e a ciascuno vi dico grazie perché c'è stato lavoro per tutti. Quindi, scusate se in questi giorni sono stato un po' con la testa in aria, ecco, però, ecco, tutto è ben riuscito per la gloria di Dio veramente. E poi, ecco, grazie a Don Leon che ci ha onorato anche della sua presenza per la messa e per la processione. Credo di non dimenticare nessuno. Adesso concludiamo, anche se Don Vincenzo ci ha dato la benedizione già, però concludiamo con una preghiera per tutti gli ammalati che in questo momento sono ricoverati nel nostro ospedale. Ecco, vogliamo pregare, ecco, per i bambini che nascono ogni giorno nel nostro ospedale che sono veramente un dono di Dio. Vogliamo pregare ancora per tutti i medici, gli infermieri, per il personale, sanitario, amministrativo, per tutti. Ecco, una preghiera raggiunga il cuore di tutti e tutti si sentano accarezzati da questa mano benedicente di Gesù. Padre nostro, se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così terra. Lascia oggi il nostro pane e cuocchiamo, rimette a noi i nostri detti, come noi rimettiamo i nostri temitori, e non ci giudiamo di persone, ma non ci giudiamo la sua mano. Adesso concludiamo la nostra bellissima serata con l'estrazione di questo quadro di Gesù confido in te. Ecco, abbiamo venduto tante polizze e adesso c'è una bambina piccola, piccola, piccola? Così nessuno può dire fanno mroglie. No, una più piccola ne voglio. Quanto anni ha? E tu? Quando? Tu gioppuranni, si vede. Allora, chiuditi gli occhi. Arzimina, aspetta, 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 aspetta che mi arziminare, se no, aspetta che mi arziminare. Il vicario generale guarda per vedere che tutto si svolge in ordine, ecco è caduto uno, vede il vicario giustamente la... Allora, un altro, allora mettiamolo dentro. Allora, ora tu metti la mano dentro, Arzimina, chiuditi gli occhi e poi ne prendi uno e lo dai a Don Vincenzo. Ah va, chiuditi gli occhi e Arzimina, metti la mano dentro. Uno solo, eh. Uno solo. Non siamo più in una scatola. E' ragione, ecco qui, allora, questo è il numero vincitore, questo è il numero vincitore. Allora, questo quadro viene vinto dal signor Tumbiolo, numero 26, grigio, serie 2. E' qua? E' qua? Qua è? E' qua la signora? Oh, auguri, un bell'applauso, vedi? Vieni, vieni, vieni. Lo consegniamo in diretta, vedi che bello. Guarda, eccolo qua. Questo è per te, ti ricorderai di questa bella giornata e di questa bella festa. Prega, ecco, Gesù per tutti. Ecco, lui stasera ti ha voluto veramente benedire. Brava, tanti auguri. Ecco, adesso la banda c'è ancora o no? La banda, ecco, adesso farà, ecco, l'ultimo canto, l'ultima suonata e poi, ecco, procediamo con... Sì, e poi procediamo, ecco, con il rimettere Gesù a posto. Un attimo che saluto le autorità. Sì, e poi procediamo. Sì, e poi procediamo.